L'intenzione di lavorare sui mercati della città di Torino in occasione di questo workshop credo sia nata da una riflessione sul fatto che le città sono degli organismi, degli organismi multiformi che hanno una loro forte personalità, ma che questa personalità è composta da diverse realtà, ma anche molto distanti fra loro. Allora mi piaceva l'idea di lavorare su un'attività tipica delle città come quella dei mercati che fossero legata a un'esigenza primaria che è quella del procurarsi il cibo, procurarsi i vestiti e che fosse quindi la stessa per tutta una serie di persone, tutta una serie di situazioni, ma che avesse poi all'interno delle differenze anche enormi. Sono tre mercati dove si compiono le stesse attività di vendita e di acquisto di merci, però sono dei posti completamente diversi fra loro. Il mercato di porta palazzo è uno spaccato di mondo all'interno della città in cui si incrociano tutto il presente pulsante di una tipica città europea, dove si sente massiccia l'influenza del flusso migratorio, il flusso migratorio proveniente da più parti del mondo, dal Maghreb, dall'Africa Nera all'Europa dell'Est, all'Estremo Oriente, che convive con una città del nord italiana. Il mercato della crocetta è un mercato del salotto, di uno dei salotti della città e il mercato di Corso Spezia è un mercato dove emerge il radicamento tipico di Torino, che è una città che da molti decenni, è una città dove l'immigrazione meridionale è diventata non qualcosa da integrare, ma è diventata l'anima di questa città. Io del resto, come tutti i torinesi, sono nato da un'altra parte e quindi ecco, sono queste tre realtà sociali, economiche, culturali che convivono in uno stesso luogo, che è appunto la città, raccontate in un luogo che è anche un luogo di attività economica, che è anche un luogo che cambia radicalmente nell'arco di una giornata. Immaginiamo che cos'è un mercato alle 5 di mattina, alle 11 di mattina e che cos'è alle 6 di pomeriggio e che cos'è durante la notte, è uno spazio che pur essendo, rimanendo sempre a se stesso, è uno spazio che cambia continuamente nell'arco della giornata.